Mira dell'Alto Consiglio Pleiadiano di Valerie Donner 30 giugno 2022 Saluti sono Mira dell'Alto Consiglio Pleiadiano e vi riferisco oggi dal Consiglio della Terra Sono lieta di dire che sono stati fatti molti progressi dall'ultima volta che abbiamo parlato Le ruote hanno girato e le luci hanno fluito ampiamente Stiamo usando tutte le nostre energie per questo obiettivo dell'ascensione della Terra e per la vostra ascensione L'attenzione è forte e profonda Sta scacciando le frequenze più basse e l'oscurità che hanno infestato la Terra per troppo tempo Se prestate attenzione a queste energie sulla Terra Vedrete che ora è più facile respirare e che ci si sente più leggeri C'è ancora molto da fare con la disgregazione del vecchio Vi assicuriamo che sono stati fatti e continuano ad essere fatti enormi progressi a favore della creazione Per amore della Terra e di tutta la vita Vi apprezziamo oltremodo per aver lavorato con noi e per aver mantenuto questa luce Stiamo lavorando tutti insieme e i nostri cuori sono pienamente coinvolti in ogni decisione che viene presa Questo è un processo complesso ed è atteso da tempo È preciso e nulla può fermarlo Ciò che ci aiuta di più è quando seguite la vostra guida interiore Ascoltando il vostro prossimo passo Saprete cosa fare, dove andare e cosa dire Siamo noi a guidarvi Sarete entusiasti dei risultati di ciò che stiamo facendo insieme Anche se non sapete chiaramente cosa sta succedendo dietro le quinte È importante avere fiducia nel piano E sapere che si tratta di un meccanismo perfetto Progettato da Dio Vi raccomandiamo di prendervi molta cura dei vostri corpi in questo momento Perché ne stanno passando di tutti i colori Sono stati messi a dura prova dagli attacchi che sono stati lanciati contro di loro Alcuni di voi cominciano a vedere la fragilità del corpo di alcune persone State anche iniziando a vedere e speriamo a capire Quanto sia sacro il corpo È qualcosa da rispettare Ed è una parte meravigliosa della creazione Vedrete che si faranno avanti altre meravigliose tecnologie Che vi aiuteranno a guarire Fatevi coraggio E sappiate che ci sono nuove tecnologie migliorate di guarigione Non sarete più limitati alla medicina allopatica con cui avete vissuto Avrete altre scelte Ci sono anche numerosi geni che riveleranno le loro cure naturali direttamente dalla terra E voi guarirete Anche la terra sta attraversando il suo viaggio di guarigione Anche lei guarirà Tutti i suoi regni stanno ascendendo e vibrano a frequenze più elevate Questo permette loro di partecipare in modi ancora più grandi all'ascensione della terra Tutta la vita sta iniziando a ricordare chi è veramente Ed è bellissimo Siamo insieme in questo e più forti che mai Vi amo, sono Mira Voce Marina